Magnesio, tutto quello che devi sapere. Quali sono i veri benefici di questo minerale? Quanto ne bisogna assumere ogni giorno? Basta una dieta equilibrata o bisogna prendere un integratore? Come faccio a capire se ho poco magnesio nel mio organismo? Ecco tutte le risposte. Il magnesio è un nutriente essenziale per il nostro benessere. È coinvolto in molti processi del nostro organismo, regola la funzione muscolare e quella nervosa, i livelli di zucchero nel sangue, la pressione arteriosa e sta alla base dei processi di utilizzazione delle proteine. Per garantirci la giusta dose di magnesio dobbiamo fare attenzione a ciò che mangiamo, assumerlo attraverso il cibo è la modalità migliore. Ma il magnesio è disponibile anche in una grandissima gamma di integratori. Non è semplice misurare i livelli di magnesio, perché questo prezioso minerale si trova anche nelle cellule e nelle ossa e gli esami del sangue possono essere fuorvianti. Generalmente viene misurato con test del sangue, della saliva o delle urine. È fondamentale che sia un medico a dirci se ci serve assumere del magnesio, perché i sintomi della sua carenza sono simili a quelli di altri disturbi e malattie. La maggior parte delle persone non assume la dose giornaliera raccomandata. Se la mancanza è temporanea non c'è alcun problema, il nostro corpo compensa, limitando la quantità di magnesio espulsa quando facciamo pipì. Se però i nostri livelli di magnesio sono scarsi a lungo, possiamo andare incontro ad alcuni problemi. Ci sono alcune malattie che possono influire sulla quantità di magnesio, come sindrome dell'intestino irritabile, diabete, pancreatite e problemi ai reni.